Ciao, mi chiamo Giulia Milordini e mi sono diplomata al liceo classico Vittorio Alfieri nel 2008. Dopo la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, sono andata a studiare a Londra, Imperial College e a King's College, dove ho ottenuto il mio dottorato di ricerca in neuroscienze. In seguito ho lavorato a un mio progetto in Israele, dove abbiamo valutato l'effetto di alcune molecole sulla neurodegenerazione. Adesso faccio la ricercatrice in un istituto privato. Intraprendere studi universitari in campo scientifico con basi umanistiche non è stato facile, però credo che liceo classico mi abbia dato gli strumenti necessari per affrontare qualunque tipo di studio. Liceo classico non è più solo versioni di greco, di latino, dizionari polverosi, è molto di più. È una scuola di vita. A me ha insegnato che gli obiettivi si raggiungono grazie alla dedizione, ai sacrifici, attraverso la forza del ragionamento, la capacità di riflettere e di approfondire gli argomenti e di allenare lo spirito alla conoscenza. In più, saper leggere i classici, sapersi orientare nella scelta di una buona lettura è anche mio rifugio, è anche medicina, un po' antidoto alla solitudine dello spirito. Ultimo ma non ultimo, ho conosciuto degli amici meravigliosi con cui condivido ancora gran parte della mia vita, quindi se tornassi indietro farei la stessa scelta, anzi suggerisco ovviamente di scegliere liceo classico.